L'agriturismo è stato chiamato la porta dei parchi, è un bioagriturismo, proprio perché siamo nel cuore di tutti i parchi abruzzesi. Alle nostre spalle una visione stupenda del parco della Maiella, nella parte opposta il parco nazionale d'Abruzzo, tutta inversa rientra nella riserva regionale Gole del Sagittario e a brevissima distanza abbiamo il parco regionale Sirente-Velino e abbiamo anche il parco nazionale del Gran Sasso. Quindi da qui c'è la possibilità di visitare anche in pochi giorni, noi proponiamo un'offerta agrituristica che si chiama Sette Giorni Sette Parchi, proprio per questa ricchezza incredibile che abbiamo di ambiente naturale assolutamente incontaminato. Se la regione Abruzzo è la regione verde d'Europa, sicuramente la porta dei parchi è il cuore di questo contesto verde. Grazie a tutti!